Autostrada, sindaci marsicani a Roma sono stati bloccati davanti a Montecitorio. I maggiori morti dell'incidente con l'elicottero sono stati ricordati con una cerimonia religiosa. Giornata della memoria, iniziative programmate ad Avezzano e l'Aquila. Servizio a banda ultralarga ce l'hanno scelto per il lancio del servizio. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Missione incompiuta, dunque quella dei sindaci di numerosi comuni marsicani che questa mattina sono andati a Roma per dire basta agli aumenti del pedaggio autostradale. Missione incompiuta, quindi perché non hanno potuto dialogare con i rappresentanti del governo, almeno a livello dei ministri. I primi cittadini dell'Abruzzo insieme a quelli del Lazio, come noto, non hanno visto di buon occhio lo sconto che il Ministero, d'intesa con la Regione, vuole applicare i pendolari facendo ricadere proprio a sugli anti la spesa. Per questo i sindaci, dopo essersi riuniti di nuovo a Cersoli, hanno deciso di andare a protestare direttamente a Roma, dove, come detto, non sono potuti entrare a Montecitorio. A vietare l'ingresso, gli agenti di polizia per una questione, hanno chiarito, legata all'ordine pubblico. Grazie a un dialogo richiesto dall'onorevole Massimo Verrecchia in piazza, anche come rappresentante del Comune di Avezzano, Renato Natale, portavoce della Presidente della Camera di Deputati, Laura Boldrini, è sceso tra i sindaci ad ascoltare le loro istanze. La folta schiera dei primi cittadini ha subito il dinego di ingresso alla piazza di Montecitorio per ordine pubblico. Ci ha scaturito una forte indignazione degli stessi sindaci, i quali stanno ponendo l'attenzione sulla necessità di eliminare totalmente i vertiginosi aumenti disposti dal governo. Inutile sottolineare che le rimostranze sono state numerose, in quanto, hanno detto i molti, quello che si sta verificando non può essere di certo accettato. A rispingere le fasce tricolori è un atto vergognoso e noi non ci fermeremo. Un distillato di ricordi, dolore, tristezza, preghiera e riconoscenza per uomini che hanno perso la vita nello svolgimento del proprio dovere. Ci sono stati tutti questi sentimenti dentro la funzione religiosa di questa mattina, svoltasi alla Basilica di Colle Maggio di L'Aquila, in omaggio alle sei persone morte nell'incidente dell'elicottero dal 118 precipitato, come si ricorderà, su Monte Felice un anno fa, 24 gennaio del 2017, verso le 11.30. In una mattinata in cui la nebbia annullava i contorni delle cose e intrappolava prodioriatamente il velivolo in nuvole bianche. Una cerimonia religiosa ufficiata dal Monsignor Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita di L'Aquila, che nell'omelia, riferendosi ai sei uomini periti nella tragedia, ha parlato di nostri amici, che hanno dimostrato un eroismo non esibito ma condiviso e di grande dedizione al dovere, aggiungendo, penso a quei bambini che non avranno più le carezze dei padri. È stata una rievocazione, qui la gente di L'Aquila ha risposto affollando in silenzio la Basilica di Colle Maggio. Poco dopo mezzogiorno, durante la liturgia, i nomi delle sei vittime sono risuonati con vibrazione di autentica commozione lungo le navate, in un silenzio di preghiera, di raccodimento. Il medico Walter Bucci, di 57 anni, l'infermiere Giuseppe Serpetti, 59 anni, il tecnico di bordo Mario Matrella, di 42 anni, Davide De Carolis, tecnico del soccorso alpino, il pilota Gianmarco Zavoli, componenti dell'equipaggio, ed Ettore Palanca, 50 anni, il turista di Roma che era stato soccorso. A rendere onore alle loro memorie c'erano il manager dell'ASL, Rinaldo Tordera, e il direttore sanitario Teresa Colizza, il direttore del 118, Gino Bianchi, il sindaco Pierluigi Biondi, il prefetto Giuseppe Linardi e il questore Antonio Maiorano, il generale Michele Siri Marco, comandante dei carabinieri di Abruzzo Molise e la senatrice Stefania Pezzopane. A rendere l'atmosfera ancora più densa di commozione è stata la struggente esibizione del coro degli alpini di Atri, il cui canto ha toccato gli animi con accenti di grande solennità e mistizia. Due importanti eventi sono stati programmati ad Avezzano per onorare la giornata della memoria. Vediamo il servizio. È stato presentato oggi il programma degli eventi organizzati con il patrocino del Comune di Avezzano per onorare la giornata della memoria in programma sabato 27 gennaio. In collaborazione con il Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila ed il Comitato per la Comunicazione e Culturale Città di Avezzano andrà in scena sabato 27 di questo mese al Teatro dei Marsi alle ore 18 Shoah, la memoria, la speranza, la vita. Cantata per soli recitanti, coro di voci bianche, coro polifonico, orchestra a nastro magnetico. Si tratta di un'opera singolare che ha per soggetto espressamente la Shoah rappresentata per la prima volta nella Marsica. La musica è di Luciano Bellini, su un libretto di Maria Mencarelli. Mezzo Soprano, Daniela Nineva, baritono, Valerio Aufiero, vocalista Isabella Valeri, voce recitante femminile Maria Cristina Delicola, voce recitante maschile Sergio Meogrossi con l'amicare partecipazione di Gabriele Ciaccia, maestro concertatore e direttore Luciano Bellini. La manifestazione è stata illustrata questa mattina nella sala consigliare da Maria Paola Giorgi, responsabile degli eventi del Comitato per la Comunicazione della Città di Avezzano affiancata dal presidente Gianfranco Lombardi. Una cantata che affronta il tema accostando idealmente il genocidio degli ebrei ad altri popoli che hanno subito lo stesso tragico destino, armeni, zingari, kurdi, slavi. L'ingresso allo spettacolo sarà gratuito ed è possibile prenotare i posti. Lo stesso giorno, alle 11, sempre al Teatro dei Marsi, ci sarà lo spettacolo Il sogno di Dresda, prodotto dal Teatro dei Colori con la regia e la drammaturgia filmate da Valentina Ciaccia. Il bombardamento di Dresda, ha detto nella presentazione Ciaccia, è uno di quegli eventi storici più problematici. È stato importante portare in scena la distruzione di una bellissima città barocca che fu anche culla dell'umanesimo. L'unica consolazione è che dalle cose brute possa nascere qualcosa di bello, di meraviglioso, che è l'arte. A portare il saluto dell'amministrazione comunale è stata la Presidente del Consiglio Comunale Iridia Cosimati, che ha letto delle frasi e dei brani sull'Olocausto. Hanno preso parte alla conferenza gli studenti della classe seconda del liceo classico accompagnati dalla professoressa Rossella Del Grosso. Insieme alla docente, Federica Gambellunghe e Paola Battistoni Del Grosso guida gli studenti anche delle classi seconda A, B e C nel corso di giornalismo realizzato in collaborazione con il quotidiano Il Lecentro. I ragazzi realizzeranno con la scuola un servizio giornalistico sulla giornata della memoria organizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Avezzano. Ora le interviste. Iridia Cosimati, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Avezzano, presiderà questo incontro importante in quanto coinvolge l'interesse degli studenti dell'amministrazione comunale per una giornata che deve essere della memoria di tutti. Sì, è una giornata importante quella della memoria. Noi oggi presentiamo il programma, quindi sabato prossimo, 27 gennaio, al Teatro dei Marzi, sia la mattina che nel pomeriggio ci saranno queste manifestazioni, questi eventi, proprio finalizzati a ricordare quello che è accaduto. Sappiamo purtroppo che le cose sono accadute. È importante tramandare, trasmettere, in particolare ai ragazzi, oggi qui sono presenti i ragazzi delle scuole, è importante che loro sappiano, che tutti noi sappiamo quello che è accaduto, perché la memoria è una cosa importante. Per quanto riguarda l'impio dell'amministrazione, questa giornata viene ricordata un po' in tutta Italia, però sembra importante che anche l'amministrazione comunale, insieme con le associazioni e le scuole, abbia dedicato una particolare attenzione a questo evento. Sicuramente, ripeto, è qualcosa di così importante che noi abbiamo deciso proprio di dedicare una giornata intera all'evento. E anche oggi, io credo che anche oggi sia un momento di riflessione per i ragazzi delle scuole. Noi siamo, come amministrazione comunale, siamo particolarmente contenti del fatto che proprio gli istituti scolastici dedichino questa particolare attenzione a un tema così importante. Valentina Sciaccia, meno nota per il momento della papà comunque impegnata nel teatro e in questa iniziativa che proporrete. Sì, beh, sono regista ormai da circa 15 anni. Sì, per questo primo spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole in via prioritaria abbiamo deciso di affrontare il tema spinoso della giornata della memoria in un modo un po' trasversale, come è nella nostra natura. Lo spettacolo si ispira liberamente al libro Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut e parla del bombardamento di Dresda, un avvenimento che ha sempre creato molte discussioni e sul quale sono stati emessi giudizi molto affrettati. La linea dello spettacolo è quella di non giustificare nessuno, di essere molto ironici e di ricordare che la memoria della vita, la sacralità della vita, sono la cosa più importante. In ogni caso comunque è importante tramandare questi ragazzi anche attraverso lo spettacolo. Certamente, la cosa importante è andare verso i ragazzi, quindi non mettersi sempre in cattedra, ascoltare anche quelle che sono le loro necessità di apprendere qualcosa che è molto pesante e molto duro, ma anche in modalità che possono essere più divertenti, più fruibili, ma non per questo meno importanti e serie e meno poetiche. L'appuntamento? L'appuntamento è il 27 gennaio al Teatro di Marsi alle ore 11. Ci tengo a dire che questo spettacolo porta in scena un giovane attore, giovane come i ragazzi che durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati immolati in questa orribile crociata dei bambini, come l'ha definita Vonnegut, e le musiche di scena e le scenografie digitali sono opera di un collettivo artistico digitale che ha sede a Roma, di cui faccio parte anch'io, che si chiama Stochastic Resonance, con tutti i nuovi attori, registi, musicisti e artisti del digitale italiano. Comitato per la comunicazione culturale in città di Avezzano, che è preso tutta da Gianfranco Lombardi. Si parlerà della Shoah e di questa vostra intuizione, cioè di ricordare per tramandare sia importante. Certo, certamente. Ci rendiamo conto perfettamente dell'importanza della cosa e siamo orgogliosi di aver potuto organizzare per la prima volta un evento di questo tipo. È un concerto tenuto dal Conservatore dell'Aquila con 40 elementi più le voci del coro, quindi una cosa bellissima e sicuramente non noiosa. Ma soprattutto ci teniamo perché è la celebrazione di eventi storici che ci hanno colpito e ci colpiscono ancora oggi. E non li vogliamo dimenticare, non li possiamo dimenticare. Quello che è successo e che non dovrebbe succedere mai più, ma speriamo bene, perché qua sembra che si perda veramente la cognizione delle cose anche oggi, è terribile. Noi ce ne rendiamo conto tutti. Se mi è permesso, io sono stato ad Auschwitz personalmente qualche anno fa, Auschwitz-Birkenau. Quello che si vede in televisione, quello che dicono, guarda, è proprio così e anche peggio. Si sente proprio l'ambiente, nell'ambiente un silenzio irreale, una cosa che non ci credevo. Esatto, il silenzio della morte. E quindi ci teniamo a comunicare questa cosa anche ai più giovani, che non l'hanno vissuto, non l'ho vissuto neanche io, neanche noi, perché non siamo così vecchi. Quindi vogliamo che la cittadinanza, i giovani e i meno giovani, partecipino numerosi e sentano la questione. Chiedo scusa, brevissimamente, che cosa è il Comitato per la Comunicazione Culturale? Cioè, aspetti specifici che trattate? Certo. Noi siamo un'associazione nata spontaneamente, tre anni fa circa. Ci siamo costituiti un gruppo di persone volenterose, tutte un po' a tembare, di una certa età, amanti un po' della cultura, un po' della comunicazione in genere, delle cose che a noi piacciono. E quindi è un'associazione, la nostra esperienza, la nostra capacità, naturalmente senza scopo di lucro, perché è più le volte che ci rimettiamo qualche cosa, ma non guadagniamo mai. Quindi, insomma, lo facciamo perché a noi piace e piace di comunicare agli altri determinati valori culturali e storici. defendono i titolari del poliambulatorio marsicano al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Avezzano. In una nota, Barbara Benelli, amministratore unico della MidiLab, tra l'altro, chiariscono alcuni elementi al centro dell'indagine. Tutte le strutture di cui alla denuncia non avevano necessarie autorizzazioni per operare, mentre per la MediLab, il poliambulatorio di Scurco, la Marsicana, il sopralloggo di Nasse, relativo verbale, rilasciato lo stesso giorno, non evidenziava alcuna anomalia, tale da giustificare la chiusura, e quindi ha continuato a operare. Dalla notte emerge un complesso panorama di controversie giudiziarie, a partire dalla denuncia di MediLab nei confronti di altre strutture sanitarie del territorio, le quali, assicura la Benelli, operavano da parecchi anni senza alcuna autorizzazione. Ad essere evidenziato fino ad oggi, c'è stato tuttavia solo il caso della struttura di Scurco, la Marsicana. Nello scorso agosto, infatti, l'azienda sanitaria provinciale ha firmato una convenzione con la società, tre giorni dopo l'ispezione del nucleo antisofisticazioni dell'arma, che ha rilevato alcune carenze tecniche. A fronte di questo, l'azienda sanitaria ha bloccato la convenzione e su questo passaggio si è originata una netta differenza di vedute, che ha portato a un contenzioso giudiziario al TAR. L'azienda dà una spiegazione anche ai rilievi che sono stati mossi contro l'ambulatorio di Scurcola. Eravamo impegnati in una ristrutturazione in vista dell'accreditamento regionale della diagnostica per immagini. Nel frattempo, comunque, il centro medico non ha mai chiuso, fermando le attività convenzionate con l'ASL, ma continuando a garantire quelle in regime privato. Giovedì 25, alle ore 11, nella sala consigliare del municipio di Avezzano, in programma la presentazione del Comitato Tecnico Scientifico, a cui sarà affidata l'organizzazione della 17esima edizione del premio Avezzano da troppi anni assente, dalla scena culturale cittadina. Interverranno il sindaco di Avezzano, Gabriele Biangelis, l'onorevole Ottaviano del Turco, coordinatore del costituente Comitato. Anche il Comune, quella tramite l'assessorata alla cultura e al turismo, ha voluto patrocinare per il 27 gennaio una serie di iniziative organizzate nel giorno della memoria per ricordare la Shoah. Tra gli eventi su cui l'assessore alla cultura Sabrina Di Cosimo ha inteso porre l'attenzione, c'è la proiezione del film Il Viaggio di Fenni, di Lola Dailon, evento organizzato dall'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica, per venerdì 26 gennaio, presso la Salance, alle ore 10, alla presenza degli studenti delle scuole medie inferiori cittadine. Il Comune, inoltre, anche quest'anno prosegue la collaborazione con l'Università e l'Officina Musicale. Sabato 27 gennaio, alle ore 11, presso l'auditorium del Parco, considera il dibattito moderato dal professor Massimo Fusillo, dedicato quest'anno all'arte degenerata, a cui prenderanno parte il professor Carlo De Matteis, autore del saggio Dire l'Indicibile. La memoria letteraria della Shoah Luca Zenobi, professore di letteratura tedesca all'Università dell'Aquila, al dibattito seguirà il concerto del Quintetto di Fiati dell'Officina Musicale. E' sempre sabato, 27 gennaio, l'istituzione sinfonica abruzzese commemora il giorno della memoria con il concerto eberismo e mette all'Europa le ore 18 al ridotto comunale Vittorio Antonellini. Il Comune di Celano entra nella lista delle località italiane scelte da team con un investimento di circa 500 mila euro per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 megabit a beneficio di cittadini e imprese. La rete raggiunge la gran parte della popolazione comunale attraverso 9 chilometri di cavi in fibra ottica grazie al collegamento di 22 cabine abstradali alle centrale con la copertura di 2.800 unità immobiliari. Il lancio a Celano dei servizi in fibra ottica è il risultato degli importanti investimenti di team si legge in una nota dell'azienda e della collaborazione da parte del Comune. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire i servizi tecnologicamente evoluti con l'obiettivo di sviluppare un modello di digital life ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione. Con la fibra è possibile accedere a contenuti e video di particolare pregio anche in HD. Team offre infatti una TV che unisce il meglio dell'intrattenimento proponendo la più ampia piattaforma di distribuzione di contenuti premium grazie ad esempio all'accordo siglato con Netflix al quale si affianca anche l'offerta Team Sky. In questo modo Team tende a proporre clienti le migliori produzioni televisive e incentivare l'utilizzo delle infrastrutture di connessione a bande larga e ultralarga fisse e immobili che rappresentano il futuro anche per il mercato dell'intrattenimento prosegue la nota. La connessione ad alta velocità si legge ancora nel comunicato consente inoltre di praticare il gaming online multiplayer in alta qualità e di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV. Anche Celano entra nella lista delle località scelte da Team per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica dichiara Francesco Gentile responsabile Access Operations Abruzzo e Molise di Team. Questa moderna infrastruttura di rete permette ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani. Ad ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio. Promozione prosegue la marcia del Luco De Marsi ai vertici della classifica. Grazie alla vittoria interna per una rete a zero contro il Fontanelle mantiene la seconda posizione classifica ma vediamo il servizio della meritata vittoria. Obiettivo primo posto questo è il tormentone che continua a girare dalle parti di Luco da un po' di mesi e che minaccia di essere il leitmotiv fino a fine campionato visto che gli angiziani proseguono nel brutto vizio delle vittorie e ormai anche la capolista Ponte Romano è a tiro dei biancazzurri. Oggi al comunale era di scena la quinta in classifica Fontanelle forte del capocannoniere Menegussi e infatti il compito non è stato così semplice come peraltro fa intuire anche il punteggio finale ma andiamo subito in cronaca anche se il subito sembrerebbe fuori luogo quando per annotare la prima azione bisogna attendere il 26esimo con Margaiotti che si propone da par suo con una traiettoria di quelle cesellate che chiama la super risposta all'estremo giallorosso che nell'impennata conseguente quasi non rischia da beffar da capitolazione scossa l'uchese e sul calcio d'angolo immediatamente successivo tocca a Di Virgilio recriminare per un'inzuccata di poco alta sopra la trasversale poco luogo per ora ma pochissimo Fontanelle che gioca in contenimento continuo contro i ragazzi di Mister Giannini finalmente a ranghi pressoché completi passiamo quindi alla mezz'ora quando il gioco locale si fa duro e incisivo e i terramani cominciano così a perdere contatto sale in cattedra Moro che nell'arco di 120 secondi prima inventa un'acrobazia da copertina che lo porta a centimetri dal palo poi perfeziona la mira dalla distanza sia pur agevolato da una deviazione ospite e consegna così il vantaggio ai padroni di casa prezioso e cercato e un tantinello anche sudato ora però c'è da blindare il risultato e i minuti non mancano e così al trentacinquesimo di nuovo un ottimo Moro prova a concedere il bis in spaccata ma non trova la porta questo è quanto per la prima metà del match la ripresa sarà sulla falsariga dei primi 45 minuti si parte al tredicesimo quando una fortunosa percussione di Menegussi quasi non fa capitolare i marsigani anche grazie ad una sponda malandrina ma in fin dei conti sterile Luco che riorganizza le proprie file al diciottesimo si propone con una bel cross di Margagliotti che pesca a centroarea di Virgilio sfortunato nell'impatto con il pallone che va a finire in pieno sul palo minuti seguenti di lieve a un pass ma si riparte in maniera convinta con quest'azione che cade al trentasettesimo e vede come protagonisti gli ospiti che fanno correre qualche brivido agli angiziani con il neo entrato bizzarri che riceve dalla fascia ma viene rimpallato dalla difesa lucchese quarantesimo match point marsicano con Margagliotti che ruba il pallone sulla tre quarti si presenta tu per tu con il portiere ospite ma lo grazia inopinatamente c'è qualche timore ora al comunale anche per il classico adagio del gol mangiato col subito e al quarantaduesimo i giallorossi provano ad approfittare della saggezza popolare ma il cuoio ai loro finisce a lato buon per il luco che in pieno recupero parte di nuovo in controvede questa volta con di Virgilio al diagonale impreciso però si procede ad oltranza e al cinquantesimo un nuovo brivido accarezza le schiene dei lucchesi e non si tratta di freddo invernale quanto piuttosto di una insidiosa girata di intellini che si perde a fondo campo poi dopo ben otto minuti di recupero gli angiziani possono finalmente esultare per un primo posto che è sempre più vicino Corrado Giannini che bel compleanno bel compleanno sì devo dire che i ragazzi ci hanno fatto questo regalo e sono contento insomma per la prestazione più che altro non tanto tecnica ma di attenzione, di concentrazione di anche fisica oggi era una brutta partita perché comunque loro questa è una squadra fisica una buona squadra avevano il capocannoniere che me ne cussi insomma siamo stati bravi sotto l'aspetto dell'attenzione oggi è un Fontanella in calo negli ultimi tempi ma oggi non si è visto no 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 oggi ho visto una squadra tonica ma me l'aspettavo perché comunque avevo sentito che ultimamente stavano in ripresa e poi dopo quando vengono a giocare a Lugo si sa ci mettono più attenzione ma è giusto così perché siamo secondi in classifica perché sanno la nostra forza di questo campo quindi ci mettono più attenzione e per noi è più difficile un limite del Lugo oggi è stato non aver chiuso la partita anche per sfortuna sì 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 potevamo chiudere la partita prima però non ci siamo riusciti secondo me Nicolò Margagliotti alla fine poteva appoggiarla alla di Virgilio però dai ci prendiamo questi tre punti oggi erano importanti soprattutto questi tre punti perché c'erano questi incroci di scontri diretti e noi noi pensavamo più a quello infatti c'era un po' secondo me un po' di pressione rispetto alle altre volte abbiamo giocato meno bene però oggi va bene così siamo in attesa del finale della Virtus Teramo contro il Ponte Romano è cominciata mezz'ora dopo la Virtus sta vincendo sta vincendo 2 a 0 ma lo sapevamo che comunque oggi per noi era importante fare i tre punti e poi aspettavamo alla fine il risultato però qualsiasi risultato forse forse dal pareggio alla vittoria di Teramo andava bene se vinceva magari Ponte Romano era diverso così speriamo bene dai noi dobbiamo pensare a noi stessi adesso e perdonando la gufata per il Ponte Romano all'inizio della fine sono due partite due partite un punto ma sai loro sì è vero hanno pareggiato in casa stanno perdendo oggi però il campionato è lungo in questo periodo dopo la sosta è importante stare bene noi noi abbiamo fatto tre vittorie quindi siamo tonici noi pensiamo a noi stessi squadra che sta tornando a ranghi completi a marzo c'è un po' da attendere arriverà o meglio tornerà anche Stornetti sì Andrea sta tornando sta lavorando però secondo me ancora è presto il campo ancora non l'ha visto mai però sta lavorando duramente vediamo insomma lo testiamo adesso nei prossimi prossimi giorni vediamo per il resto sì Ciaprini oggi è rientrato anche se l'abbiamo un pochino rischiato perché non stava ancora al 100% però serviva e poi i ragazzi sì qualche ragazzo con la febbre però li recuperiamo insomma in settimana a proposito di sostituzione l'uscita di Tuzzi per precauzione per cosa? Tuzzi no non ce la faceva più il ginocchio ha preso una distorsione ultimamente lì non ce la faceva saltare quindi non abbiamo rischiato e adesso vediamo insomma in settimana come andrà un problema per il Lugo sarà indubbiamente il calendario non è favorevole il calendario non è favorevole però io penso che con questa determinazione questa attenzione ce le possiamo andare a giocare tutte adesso domenica andiamo a Sant'Egidio che è un campo difficile storico vediamo dai partita in partita allora diciamo appunto calendario difficile scontri diretti tutti in trasferta poi nel caso di Sant'Egidio c'è come dire un caso atipico non è a livello strettamente sportivo agonistico ma probabilmente la situazione sarà tesa sì è un ambiente teso ma lì storicamente è così sono due due grandi società che hanno fatto una vita questi campionati e campionati superiori quindi c'è questo blasone quindi è sempre difficile là poi l'anno scorso qui loro sono venuti e hanno perso la semifinale insomma c'è stato qualche screzio fuori dal campo però noi dobbiamo pensare a giocare la partita dicevo prima al mio cameraman uno scontro anche in panchina oggi fra due grandi di ex della serie c diciamo sì sì lui è stato un grandissimo anche in serie A bizzarri ce lo ricordiamo grande trequartista abbiamo parlato tanto prima della partita abbiamo un ottimo rapporto anche all'andata e ci stimiamo a vicenda insomma anche come allenatori e lui segnava più gol lui era un trequartista forte anche punta per ogni venito stiamo ricordando qualche cosa con il Brescia però dai sono cose passate pensiamo al futuro e ricordiamo oggi 28 anni 27 oggi magari magari oggi magari 47 ma niente i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo li ringrazio perché stanno facendo veramente partite molto belle sotto anche l'aspetto caratteriale con il servizio di sport termina qui questa edizione del giornale prima dei saluti vi ricordiamo che la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduetv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito arrivederci alla prossima edizione Grazie a tutti